Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi siamo qui per spiegarvi Paramount Plus Paramount Plus che si è allargato, che si è unito alla piattaforma di Sky e oggi vi faccio vedere come attivarlo quindi iniziamo Eccoci qua Allora se non è ancora fatto ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like, un commento e via discorrendo Intanto mi volevo scusare perché in questo periodo non mi sono fatto trovare ho fatto solo dei brevi tutorial molto veloci perché sto preparando un po' di cose un po' di cosine, stiamo cercando di fare qualche collaborazione spero il più presto possibile e c'è anche una grande novità una grande novità che cercherò soprattutto a voi iscritti di farvi un piccolo regalo e speriamo di potervelo fare vi faccio vedere? Dai su! Eccolo qua! Questo è il mio nuovo libro tecnico digitale dalla A alla Z Tra un po' lo metteremo, lo lancieremo ve lo dico per questa volta per iniziare ci sarà l'arrivo anche di un videocorso e tutto il resto però non voglio fare spoiler stiamo ancora programmando tutto e nei prossimi video vi spiegherò il tutto anche spero le nuove collaborazioni quindi oggi vi spiego un attimo come funziona Paramount Plus è la nuova piattaforma che si abbina a Sky dovete avere in pratica Sky Cinema sul vostro pacchetto altrimenti non lo potete attivare io in questo caso qui non lo posso attivare perché è un abbonamento per operatori quindi non mi dà il permesso di attivare Paramount Plus per farvelo vedere però vi voglio far vedere come si attiva è molto semplice voi andate sul tasto Home scorrete qui sotto sulle applicazioni mettete Paramount Plus lo abilitate premente ok ecco qua fate attiva Paramount Plus Sky voi ci sarà una sequenza guidata per l'attivazione termini e servizi policy privacy e tutte le altre cose e il gioco è fatto avete Paramount Plus sul vostro abbonamento e senza alcun problema se lo volete forse per alcuni si dovrà pagare ma ve lo dirà attraverso l'attivazione in pratica vi dice il prezzo e tutto quanto se volete lo attivate se no fate come volete voi potete anche non attivarlo è solo per farvi vedere che c'è una nuova novità su Sky ce ne sono già tante Sky Glass è stato già uno e questo è una cosa che sta aumentando sempre di più niente quindi vi aspetto ai prossimi video mi raccomando Sky Paramount se lo volete vedere è molto semplice da attivare fate la sequenza è a posto e ci vediamo ai prossimi video mi raccomando tenetevi pronti perché per tutti gli iscritti ci sarà un omaggio qualcosa sta per arrivare ok ciao a tutti e andrà lanciotti il vostro tecnico digitale ciao ciao